Ultimi ritocchi alla fase finale della preparazione del trippini agli ordini di mister Romagnini in vista della finalissima di Coppa Italia contro il Vasto Girardi in programma domenica prossima 4 gennaio con inizio alle ore 15 allo stadio Lancellotta di Sernia. Pronta anche la macchina organizzativa della Riga Calcio che in settimana ha tenuto un vertice con le due società al fine di regalare agli sportivi una vera giornata di sport. Molte le testate giornalistiche e le tv accreditate per il match dell'anno, anche la febbre del tifo, sale vertiginosamente a Piedimonti e a Vasto Girardi perché saranno in tanti a seguire le due squadre domenica prossima. Il costo del biglietto è stato fissato in 10 euro per tutti i settori mentre gli under 14 entreranno gratis. I taglianti sono acquistabili sì in alcuni locali commerciali di Vasto Girardi che in quelli di Piedimonte e Matese. Noi siamo andati a sentire come sta vivendo questa vigilia storica la squadra del Treppini. A raccontarcelo il presidente Marcellino Pepe. Allora presidente, nei bar, nelle piazze non si parla d'altro. Domenica c'è stata questa grande finale. Come l'ha stata vivendo? Sono ormai dieci giorni che siamo totalmente concentrati su questa finale. Noi abbiamo vissuto e la stiamo vivendo ancora fino a domenica con entusiasmo e con il massimo impegno sia sul campo che fuori dal campo. So che c'è la squadra che con Silvano Romagnini e Ciro Gomma stanno preparando quasi scientificamente la gara per domenica. Parallelamente noi società ci stiamo impegnando per far sì che tutto il contorno sia perfetto per questo evento che ci inorgoglisce sia noi come squadra che come cittadini di Montematese. Da uno a dieci, quali sono le difficoltà del vostro avversario? Ci troviamo ad affrontare un avversario molto forte che tra l'altro non è nuovo nelle esperienze da finale di Coppa Italia. Bastoggiare di affrontare la terza finale di cui una tra l'altro vista anche vincente. Sappiamo della validità e della solidità di questa squadra che anche in campionato sta dimostrando di saper fare bene in ogni occasione. D'altro canto noi siamo sempre convinti che è un treppini quest'anno che è valido. È un gruppo fantastico, un gruppo che anche se in campionato non ha ancora espresso il suo potenziale, in qualche maniera la Coppa è stata come una valvola di sfogo per far sì che proprio questo potenziale possa venire fuori. Ci troviamo in finale, la finale ha la difficoltà di una finale. Vi aspettavate alla finale? Devo dire la verità no, ho iniziato a capire che potremmo arrivare in finale quando abbiamo vinto la partita di andata contro il Benafro, quindi è lì che forse ho detto quasi quasi questo è l'anno buono dove il treppini può arrivare in finale, quindi alla fine ce l'abbiamo fatta anche in semifinale con la LIFE, quindi difficoltà di una semifinale di una squadra che comunque come la LIFE all'epoca era una squadra molto attrezzata, con il coinvolgimento di un derby, due derby quindi, andata e ritorno, tra l'altro molto ravvicinata alla partita di campionato, non era tutto semplicissimo, però ce l'abbiamo fatta e è una finale che ci meritiamo e che ci giocheremo con il massimo impegno. Brevemente, che cosa vuole dire ai suoi giocatori? Sentendo di stare tranquilli, di essere consapevoli che siete un grande gruppo, come dico sempre fate le cose semplici, fate quello che sapete fare perché se va tutto così, in questa maniera, consapevole della vostra forza, alla fine vinceremo anche la finale. E cosa invece, l'ultima domanda, vuole dire la tifoseria che so che in modo abbastanza consistente seguirà la squadra? Sì, ogni giorno sto avendo dimostrazioni che c'è una tifoseria che cresce giorno dopo giorno, l'evento è sentito non solo da parte nostra, ma anche da tutti i nostri concittadini e tutti i tifosi abituali. Una cosa che vi chiedo è non abbandonateci, venite con noi domenica quanto più massiccio possibile, perché abbiamo bisogno di voi a Disernia domenica per appoggiare i ragazzi per 90 minuti con il vostro calore sul campo che vogliamo sentirlo insomma fino alla fine.